Ciao a tutti, sono Alexandra Concisca e sono la direttrice marketing di GetResponse. Sono super contenta di essere qui con voi oggi per mostrarvi come creare una strategia di marketing di successo per una startup. Siete pronti? Allora iniziamo! Oggi ti parlerò di come creare una strategia di marketing di successo per la tua startup. Iniziamo con una domanda. Stai ovviamente realizzando un servizio o un prodotto, ma la domanda è sei una target persona per il prodotto o servizio che stai creando? E sai perché te lo chiedo? Bene, lascia che ti racconti alcune storie. Prima di tutto incontriamo Bill Bowerman, un allenatore americano di atletica leggera. Ciò di cui aveva bisogno erano delle scarpe più leggere per i suoi atleti. Ed è così che è stata creata la Nike. Sai cosa ha fatto? Ha creato una soluzione ad un problema, un bisogno che lui stesso effettivamente aveva. Conosceva perfettamente il cliente, perché era lui stesso il suo cliente e ha creato un prodotto per sé. Un altro esempio interessante è 37 Signals, una software house americana che aveva bisogno di uno strumento che permettesse loro di gestire i progetti dell'agenzia. Ed è così che è stato creato Basecamp. Quindi la domanda è, sei la target persona del prodotto che stai cercando? E se non lo sei, sei sicuro di conoscere davvero i bisogni e i desideri del tuo cliente ideale? Oggi affronterò con te sei o sette punti che devi tenere a mente quando crei la tua strategia di marketing. Partiamo dal primo, dalla Value Proposition. Che cos'è la Value Proposition? È una lista di caratteristiche, un elenco di selling point relative al tuo prodotto che possono effettivamente risolvere le esigenze del cliente, portandogli un valore reale. Quindi è necessario che tu conosca davvero bene il tuo cliente, per assicurarti che ci sia una corrispondenza tra il prodotto che offri e le diverse tipologie di segmenti, di profili del cliente. Per formulare correttamente la proposta di valore del prodotto, devi conoscere davvero bene il comportamento del tuo cliente, quali sono le sue esigenze, quali sono le sue difficoltà. Devi assicurarti cioè che ci sia una corrispondenza, ovvero in jargo un fit, tra questi due. Farlo ti offrirà un ottimo spunto per formulare punti di forza unici, creare un elenco di parole chiave, creare un messaging adeguato, creare un elenco delle tue personas. Il secondo suggerimento è che ogni strategia di marketing inizia con un'analisi dettagliata e adeguata. Quindi devi conoscere i tuoi numeri, devi conoscere il tuo mercato e devi chiederti, c'è un mercato? Cioè ci sono persone che stanno già cercando quello che io offro, una soluzione ai loro problemi? C'è un potenziale problema che io sono in grado di risolvere? Le persone lo stanno già cercando oppure no? Ecco qui un esempio interessante di un software di marketing automation. Con Google Trend, strumento che io ti invito ad utilizzare, puoi vedere qual è un certo volume di ricerca in un determinato paese, in un determinato periodo. Cioè puoi analizzare un trend, un trend relativo ad un termine di ricerca. Ci sono anche diversi strumenti gratuiti che ti consiglio di utilizzare. Un altro, molto efficace, che ti serve per verificare se le persone stanno già cercando il tuo prodotto o qualcosa di simile, è SEMrush, che offre tra l'altro un modello freemium. Puoi controllare, grazie a SEMrush, facilmente se sui vari mercati, stati unitensi, europei, asiatici, se esiste già qualche ricerca e quindi se esiste la domanda circa il prodotto che tu vorresti vendere. E questo te lo dice analizzando i vari motori di ricerca. Un passo in avanti nella tua strategia di marketing è analizzare cosa fa la concorrenza. Se stai effettivamente entrando in un oceano rosso o in un oceano blu. L'oceano rosso è l'oceano dove hai già parecchi concorrenti, quindi significa che ci sono già molte soluzioni alternative al tuo prodotto. Questo potrebbe essere utile per te, perché è più facile lanciare un prodotto che le persone già usano. Quindi quello che dovrai fare è solo trovare un vantaggio competitivo che ti renda unico nell'arena competitiva. D'altra parte, costruire però un oceano blu significa che devi creare tu il bisogno, devi creare tu il tuo mercato e per farlo devi essere assolutamente innovativo, quello che in gergo viene definito disruptive. È sicuramente più difficile, ma una volta che dai un'occhiata all'oceano rosso in termini di campagne pay-per-click, quello che salta all'occhio è che l'oceano rosso è molto più costoso. Quindi, se desideri entrare in un mercato altamente competitivo, cioè in un oceano rosso, come ad esempio quello della pubblicità o delle assicurazioni, dove ci sono molti player sul mercato, o sei disposto a pagare tantissimo, o sei disposto ad offrire un prodotto assolutamente innovativo. Passiamo ora al terzo punto. Una volta ottenuta l'analisi completa del tuo mercato, conosci i tuoi numeri, sai qual è la tua proposta di valore, sai qual è il profilo del tuo cliente. Quello che devi fare ora è portare traffico sul tuo sito web. Ma prima di iniziare a farlo, è necessario creare prima un sito web, giusto? Ed è sul sito web che andrai ad inserire tutte quelle cose che hai fatto finora. Quindi andrai ad inserire la tua selling proposition unica, il tuo messaging appropriato, così da assicurarti che il tuo sito web sia in grado di vendere il tuo prodotto. E sono molti gli strumenti gratuiti che GetResponse ti può offrire in questo senso. Ad esempio, un editor di siti web gratuito, che ti offre molti modelli per software as a service, per e-commerce e tantissimi altri settori. Puoi usare questo editor drag and drop, cioè trascina e inserisci, con svariate sezioni pronte all'uso e puoi collegare facilmente il tuo dominio in pochi secondi. Crea in questo caso un sito in maniera molto facile e soprattutto gratuita. Assicurati però che il messaging, il contenuto che creerai e che inserirai nel tuo sito web siano davvero persuasivi, siano davvero engaging per il tuo potenziale utente. Assicurati inoltre un buon mix di canali, in modo da aumentare il traffico verso il sito web. Quindi una volta che hai un sito web ben progettato e dal design professionale, grazie ad alcuni strumenti gratuiti, assicurati un buon mix di canali per creare traffico sul tuo sito web. Il mio consiglio è di concentrarti su pochi canali davvero importanti, tra cui l'organico, il diretto, l'affiliate, il social, la ricerca a pagamento, il refeller e il display. Concentrati in modo specifico e prima di tutti gli altri sul traffico SEO, sul traffico organico. Il traffico organico generalmente genera un ROI migliore, ma serve molto tempo per costruirlo in maniera efficiente e devi occuparti della strategia SEO, sia on-site che off-site. La strategia on-site, quella cosiddetta on-page, è tutta incentrata sull'ottimizzazione del sito web. È tutta una questione di performance del sito, come gli URL, la mappa del sito, gli errori, l'analisi delle parole chiave, i metatag, mentre l'off-page è tutto ciò che riguarda la creazione di link ai contenuti, i press releases, cioè dovrei assicurarti che ci siano davvero anche altre aziende che ti menzionano i loro siti e che ti linkano. In merito al primo punto, la SEO on-page è piuttosto facile, perché gli editor di siti web hanno già le impostazioni SEO per assicurarti che almeno le basi SEO vengano coperte. Fanno in pratica il lavoro per te. Prima di passare alle campagne pay-per-click, che di solito sono il modo più semplice per acquisire i clienti, dovresti esplorare altri canali. Il mio consiglio è di focalizzarti sui cosiddetti referral. I referral sono canali molto importanti per le start-up. Cosa significa referral? Significa che sfrutterai altri marketplace, come ad esempio Product Hunt o Kickstarter, o i gruppi nei social media, oppure alcuni influencer, e questo per promuovere il tuo prodotto. Ed è qui che ti voglio parlare del viral loop. Quindi, quando inizierai a creare un prodotto e una sua strategia di marketing per venderlo, devi pensare ai cosiddetti cicli di crescita, ovvero alcune azioni, alcune campagne che attireranno effettivamente nuovi clienti. E assicurati anche che questi clienti ti porteranno altrettanti clienti. Attiva e genera un ciclo infinito, un loop, che ti aiuterà a far crescere la tua start-up come aziende simili hanno fatto proprio ai loro inizi, come ad esempio Uber o Airbnb. Loro sono cresciute e sono passate dall'essere start-up all'essere grandi aziende, proprio perché hanno implementato con successo cicli di crescita virale. Qui puoi dare un'occhiata ad alcuni programmi referral che Airbnb ha utilizzato all'inizio ed erano dedicate ai suoi early adopters. Ci sono tutti i software fantastici come Kickoff Labs o Prefinery, vedi qui alcuni siti, che ti possono servire per costruire referral loop virali per il tuo prodotto. Alcuni includono la costruzione delle waitlist o come tenere alcuni premi se vengono compiute certe azioni, eccetera. Te hai la scelta. Quindi pensa a come creare questo loop virale e a come tenere più referral dai tuoi attuali utenti, i tuoi early adopter, prima di andare a investire in qualsiasi altro canale. Ora che hai ottenuto traffico sul tuo sito web, l'obiettivo è convertire questo traffico in lead e quindi per farlo usiamo altri strumenti. Abbiamo i moduli di contatto, i moduli di iscrizione che devi assolutamente incorporare nel tuo sito web, oppure i pop-up di uscita che servono per aumentare le conversioni, oppure pensa ai lead magnet, ovvero un contenuto gratuito come può essere un e-book o un webinar che sono disponibili per i tuoi utenti gratuitamente, ma accessibili solo se ti forniscono in cambio la loro email. Questo meccanismo è specifico per le aziende di software, per le aziende B2B ad esempio, nelle quali, prima di vendere direttamente il prodotto al cliente, si costruisce un lead magnet o un webinar gratis, strumenti che servono per creare prima fiducia e poi assicurarsi la conversione in un secondo momento. E arriviamo al quinto punto, come convertire i lead in clienti paganti. Pensa per prima cosa ad una corretta segmentazione all'email nurturing. Che cos'è la segmentazione? Segmentazione significa che invece di concepire i clienti tutti insieme in un unico gruppo, puoi pensarli verticalmente, dividendoli in gruppi specifici, come ad esempio i clienti potenziali che ti adeggeranno più della media e avranno quindi un lifetime value in più alto e i clienti che difficilmente useranno il tuo prodotto. Prendendo queste due dimensioni puoi facilmente creare quattro segmenti di clienti. da quelli che sono poco spendenti agli altospendenti a quelli che useranno spesso il tuo prodotto e a quelli che le useranno di meno. Una volta che hai creato questi segmenti, dovresti creare poi delle campagne specifiche di provozione, una per ogni segmento. Questo aumenterà le probabilità di conversione. Così come puoi vedere da questo funnel, vedrai che alcuni clienti ti abbandoneranno prima. tieni presente che di solito servono dei 7 ai 13 contatti cosiddetti talk in gergo per trasformare un potenziale cliente in un cliente. Quindi devi assicurarti che ottenga almeno 9 reminder da parte tua prima che decida di acquistare qualcosa da te. Quando costruisci questa marketing automation puoi includere condizioni, puoi usare qualsiasi azione o filtro per renderla ancora più efficace di successo. Tieni inoltre presente che puoi focalizzarti sui vari canali, dall'email marketing alle notifiche web push oppure puoi utilizzare alcune personalizzazioni nel sito web che utilizzerai per poi nutrire in futuro i tuoi clienti. Un ulteriore suggerimento è su come riconquistare gli utenti e i clienti perché una volta che hai convertito il traffico in lead e i lead in clienti devi assicurarti di conservare questi clienti e di riconquistare coloro che non hanno convertito. Complesso? Aspetta. Qui voglio darti un suggerimento preziosissimo. Includi nella tua strategia di marketing il remarketing display su tutte le piattaforme che intendi utilizzare in cui sono presenti i clienti che hanno già visitato la tua pagina web clienti o prospect. Un'altra cosa è utilizzare il remarketing omnicanale attraverso la marketing automation. Sfrutta diversi canali come le notifiche web push di cui abbiamo già parlato o la creazione dei flussi di recupero del corrello abbandonato che fanno sì che il cliente o il prospect ricordi il tuo prodotto e ritorni su di esso. Uno strumento ad alta conversione è assolutamente l'email remarketing che non deve mancare. Devi pensare a rivolgerti attivamente ai tuoi clienti già attivi cioè a quelli che già ti stanno pagando. Assicurati di non dimenticarti di loro ma di coinvolgerli. In questo modo il tasso di fidelizzazione aumenta. E perché sto parlando della fidelizzazione dei clienti? Perché la fidelizzazione dei clienti soprattutto per quei business che si basano su business model in abbonamento ma in realtà poi per tutte le attività soprattutto per gli e-commerce la fidelizzazione dei clienti è molto più importante dell'acquisizione di nuovi utenti. Diamo un'occhiata a questo grafico che rappresenta un numero di clienti nel corso dei mesi. Supponiamo che tu ottenga 109 utenti mensili con un tasso di abbandono churn rate del 5%. Traslando questo numero significa che raggiungerai un momento in cui la tua crescita si fermerà. Ciò significa che a meno che tu non riduca il tasso di abbandono non sarai in grado di far crescere in modo significativo la tua azienda ed è sempre molto più redditizio ridurre il tasso di abbandono piuttosto che spendere soldi in acquisizione di nuovi clienti. Un altro suggerimento che è una sorta di conclusione a quanto detto finora sulla nostra strategia di marketing è di assicurarti di tenere traccia delle tue metriche di funnel. Ora che abbiamo seguito tutti i processi elencati finora siamo partiti dalla creazione del traffico quindi abbiamo costruito impression abbiamo costruito awareness sul prodotto abbiamo creato conversioni ora abbiamo bisogno di sapere quali sono i numeri ad esempio qual è il traffico qual è la distribuzione del traffico sui vari canali quali sono i tassi di conversione qual è effettivamente il tasso di ritenzione qual è il tuo arpa qual è il tuo tasso di abbandono e poi come stai andando con il tuo programma di referral quanti clienti ti stanno portando i tuoi attuali clienti come sta andando il tuo programma di customer advocacy quindi ti do un ultimo consiglio importantissimo non pagare più del dovuto concentriamoci sulle metriche concentriamoci sul ROI sei una startup hai bisogno di crescere velocemente ma devi anche assicurarti di non sprecare i tuoi soldi quindi avvia tutte le attività di marketing gratuitamente ci sono alcuni strumenti gratuiti di cui ti ho parlato oggi da Samrush a GetResponse fino a Google Analytics e Google Trend che puoi usare senza pagare più del dovuto per prima cosa inizia a costruire la tua attività gratis inizia a pensare ad alcuni cicli di crescita prima sfrutto quello organico i refeller i social prima di andare a spendere soldi su campagne per click o qualsiasi altro canale che ti porta clienti in maniera rapida ma che poi incide negativamente sul tuo ROI quindi ultimo ma non meno importante prima di lasciarti desidero informarti che tutti gli strumenti che ti ho presentato oggi sono effettivamente inclusi nella piattaforma GetResponse che puoi avere gratis per sempre in modo da poter costruire il tuo sito web gratis ottenere fino a 500 lead inviare a questi 500 lead newsletter illimitate gratis per sempre connettere il tuo dominio al sito web che hai creato includere nel tuo sito web moduli di contatto di iscrizione pop up di uscita per raccogliere lead e creare una landing page gratis per sempre quindi non pagare più del dovuto inizia con alcuni strumenti gratis che funzionano davvero per te spero che questo intervento sia stato utile e che possa essere un ottimo spunto per il successo della tua startup per la tua strategia di marketing quindi ragazzi ricordatevi non spendete più del dovuto e fatemi sapere se avete domande sono qui per condividere con voi tutte le mie conoscenze esempi e pratiche fatemi sapere se ci sono dubbi tengo le dita incrociate per il vostro successo quindi buona fortuna e a presto ciao grazie a tutti